La verità è che abbiamo molte segnalazioni di teschi urlanti. Succede ogni anno. Un mucchio di socchezze, a mio parere. Caspita, meno male che non gli abbiamo detto di aver visto Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Ora sì che vi credo, sentite quel nome. Parla sul serio? Certo che sì. Avete visto il vecchio svitato? Lo chiamiamo Sherlock lo svitato. Siete liberi di andare via. Hanno pagato la cauzione. Però non lasciate la città. Non andremo da nessuna parte. C'è un mistero da risolvere. E noi lo risolveremo di sicuro. Ma chi avrà pagato la nostra cauzione? Me ne sono occupato io. Ah, cipicchialina, volevo dire, elementare quello è Sherlock Holmes. Esatto, io sono Sherlock Holmes. Sì, sappiamo bene chi sei o perlomeno chi fingi di essere. Il più famoso detective della letteratura. Complimenti, devi avere almeno più di 150 anni. Proprio così. Sono qui dal 1887. Ah, sei informissima. Quale crema per il viso usi? Un miscuglio che faccio nel mio laboratorio con l'aiuto della scienza. Ragazzi, Sherlock Holmes è un personaggio inventato, ricordate? Sì, lo sappiamo. Lo sappiamo. Eppure sono io, io. Eccomi qui, Sherlock Holmes in persona. Io vi invito a non vedere con gli occhi, ma con la mente. Non c'è nulla di così ingannevole come un fatto che sembra ovvio. È quello che hai detto nel mistero di Boscom Valley? In ogni caso ho dedotto molte cose su di voi con una sola occhiata. Il modo in cui lui annoda Lascott. La scintilla deduttiva che brilla nei suoi occhi. Quel mastino orribile per rivaleggiare con quello dei Baskerville. Sono orribile. E il modo in cui avete accettato prontamente il fenomeno dei teschi urlanti mi dice che voi siete un gruppo che risolve misteri. E anche la scritta Mystery Machine. E questo cosa vorrebbe dire? Beh, ad essere onesto, vorrei il vostro aiuto per poter risolvere questo mistero. Ok, dacci un momento, signor Sherlock. Indubitabilmente, Watson. Watson? Venite qui, amici. È chiaro che non è Sherlock Holmes. Ma sembra gentile, anche se è... pazzerello. E sono sicuro che conosce Londra molto meglio di noi. A me piace il cappello. Già pagato la cauzione? Sì, ricordate, Sherlock Holmes vi ha pagato la cauzione. Sarebbe forte risolvere un mistero con Sherlock Holmes. Siamo d'accordo. Lavoreremo insieme. Eccellente.